Abbiamo dinanzi a noi le reliquie di San Calogeno e di Sant'Antonio e le diamo una preghiera. San Calogeno e Sant'Antonio di Padova, che il Signore ha dato a noi come intercessori presso di Lui e come modelli di vita cristiana. San Calogeno e Sant'Antonio, voi che avete consacrato la vita alla gloria di Dio e al bene spirituale e materiale dei fratelli che Dio metteva sul vostro cammino, aiutateci in questo delicato momento che tutta l'umanità sta attraversando. Aiutateci a vivere la settimana santa con voi, come voi, morendo con Gesù al peccato e risorgendo con Gesù alla vita nuova dell'amore. Pregate per tutti i ficalesi sparsi nel mondo, di cui tanti sono lontani dalle loro famiglie. Pregate per tutti i ficalesi sparsi nel mondo, di cui tanti sono lontani dalle loro famiglie. Pregate per tutti i cristiani e per tutti gli uomini, nostri fratelli, che piangono e genono in ogni angolo della terra. Pregate per tutti i ficalesi sparsi nel mondo, di cui tanti sono lontani dalle loro famiglie. Sant'Alogia e Sant'Antonio, sostenete i medici, gli infermieri, gli operatori della sanità, il ricercatore, tutti i volontari e quelli che hanno responsabilità sociale e di governo. Asciugate le lacrime di tutte le famiglie che ti hanno per i loro cari, malati o defunti. Vi affidiamo il domani di chi ha perso o di chi non ha lavoro. Il domani dei nostri giovani, dei nostri bambini. San Calogio e Sant'Antonio, provvedete perché a nessuno manchi una casa, l'affetto, il cibo necessario e l'assistenza medica. Benevite chi nei nostri paesi e nelle nostre città opera con sacrificio e generosità in questo campo. Santo Calogio e Sant'Antonio, pregate per noi e concedete la grazia di potervi un giorno ringraziare per quello che farete per noi tutti. Amen